Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, quest'oggi finalmente si inizia a scendere in campo le prime amichevoli estive contro Venezia e Genova e teoricamente ci sarebbe anche la partita contro il Colonia ma vi ricordo sempre che siamo in pieno calciomercato, le cose stanno andando avanti stanno succedendo tantissime cose appunto, tantissimi colpi di scena, tante trattative quindi tanti acquisti e tante cessioni e sicuramente quest'oggi continueremo con lo stesso ritmo ma come al solito raga prima di iniziare a giocare io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è in descrizione detto ciò ragazzi possiamo scendere subito in campo prima partita ovviamente che verrà giocato con la migliore squadra possibile perché io in questi casi faccio sempre in questo modo cioè quando vedo che una squadra è stata modificata come nel nostro caso appunto tanti innesti nuovi e appunto la prima partita stagionale amichevole o no che sia è giusto scendere in campo con la migliore squadra a ciato per ciato perché appunto bisogna testare quindi Popa, nuovo capitano poi Oster, Wadgreeves, Nianzu, Arnaud Martinez Richie, Kiergaard, Moore, centrocampo in attacco Nico Williams, Rodrigo Ribeiro e Erwie Vail ah poi ragazzi come sempre addirittura qua scendono dal pulmo addirittura una presentazione shock per Ed Moore che è alla seconda stagione va bene FIFA comunque ovviamente ragazzi trattandosi di amichevoli vi mostrerò semplicemente i gol per fare in fretta e occhiolo Rodrigo Ribeiro c'è subito lo scatto di Nico Williams attenzione Williams il sinistro di Nico Williams che ovviamente riesce a trovare subito il primo gol con la sua nuova maglia e ok ragazzi finisce un ottimo primo tempo da parte nostra solamente 1-0 però diciamo che la differenza tecnica si nota quest'oggi no ragazzi ma che cosa significa questo gol primo tiro che fa il Venezia al cinquantesimo perché vi giuro veramente non avevano fatto nulla e poi arriva una papera clamorosa da parte di Popa cioè perché non l'ha presa cioè questo qui era un pallone da bloccare quasi cioè come cavolo si è spostato vabbè ragazzi Williams 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 questo corre ragazzi questo corre questo qua secondo me ci vorrà fare anche tanti kick off madonna ragazzi Nico Williams doppietta personale kick off clamoroso ma soprattutto quanto cavolo è forte e oggi ho che possiamo ancora avanzare Erby per l'occhio che si inserisce ancora Williams adesso addirittura da quest'altra parte esterno destro ragazzi tripletta personale ha fatto veramente un tiro bellissimo con l'esterno appunto senza che io schiacciassi eh cosa? dicevo senza che io schiacciassi nessun tasto ha fatto tutto lui in automatico quindi vuol dire che ce l'ha proprio dentro ecco ragazzi che possiamo ancora andare Rodrigo Ribeiro fa correre Williams ragazzi è troppo forte non lo tengono qui riesce a tenerla e a segnare anche il poker personale ragazzi ha fatto 4 tiri 4 gol e occhio ancora Williams occhio ragazzi non lo fermano non lo tengono è imprendibile qua prova l'assist e riesce a trovarlo inizialmente la palla era per Rodrigo Ribeiro ma alla fine arriva Erby Vail che realizza il gol del 5-1 e ok ragazzi arriva anche il fischio finale sicuramente il Venezia non era l'avversario migliore forse per testare Nico Williams nel senso che non è una squadra fortissimissima e quindi non era forse la partita migliore però ragazzi se iniziamo così comunque ragazzi arriva subito un'offerta molto importante e molto interessante per Roberto da parte dell'Inter ancora la Serie A che prova ad acquistare i nostri giocatori ormai ragazzi sta andando avanti nella scorsa puntata questa cosa comunque io farei la stessa offerta che ho fatto alla Fiorentina quindi mi accontenterei di 60 milioni allora vediamo un po' che dicono i razzurri 60 milioni avanziamo l'offerta rifiutate a prescindere addirittura beh così però non si va molto avanti ok ragazzi nessuna nuova offerta quindi direi di scendere subito in campo per la seconda partita contro il Genova il nostro Genova che è stata sicuramente una squadra molto importante quest'anno per noi comunque cambio totale di formazione con addirittura McGeer fra i pali poi Bertram Betè Amé Michael Brenzi Wout Bait e Neil a centrocampo in attacco abbiamo Gibbs Roberto e Collen giustamente là che è giusto far giocare più gente possibile perché appunto sono amichevoli e niente ragazzi finisce il primo tempo 0-0 all'intervallo partita sicuramente più complicata rispetto a quella lì contro i Venezia McGeer infatti già ha fatto qualche parata qualche miracolo e più che altro ragazzi diciamo che si nota pure comunque la partita è molto più equilibrata grazie al fatto che siamo totalmente in campo al 100% con le seconde linee quindi forse era anche inevitabile a tratti no qui attenzione che arriva il vantaggio del Genova su un gol decisamente scriptato secondo me perché troppi lisci da parte della mia squadra faccio con l'En riesce a passare con l'En prova a seguire l'insedimento di Neil che va ancora dentro ragazzi arriva il gol di Gibbs ma che azione veramente bellissima 1-1 pareggio del Salford segna il suo primo gol anche se non ufficiale il giovanissimo Gibbs che speriamo possa essere protagonista quest'anno faccio ragazzi Rodrigo Ribeiro appena messo in campo forza Neil corri Neil occio all'inserimento di Kierkard che riesce ad appoggiare ancora Wreth Phillips appena messo in campo non ci credo ragazzi finisce pure qua la partita su quest'ultima azione era il contropiede della vita Wreth Phillips poteva diventare ancora più un eroe di questa squadra però qui fallisce miseriamente il gol del 2-1 comunque finisce appunto 1-1 questa sfida ci può stare ragazzi partita abbastanza equilibrata però ecco se vogliamo vincere il torneo con questa nuova formula da parte di FIFA diciamo che sei quasi obbligato a vincere tutte e tre comunque ragazzi stranamente oggi non arrivano offerte ripeto solamente quella lì per Roberto prima da parte dell'Inter e a suo punto continuiamo a scendere in campo continuiamo a giocare adesso a partire contro il Colonia che praticamente prima ho visto la classifica stiamo obbligati a vincere e sperare che non vinca la Salernitana se vogliamo vincere il torneo perché sia la Salernitana che il Colonia sono le uniche due squadre a punteggio pieno a sei punti quindi raga speriamo anche di essere fortunati quest'oggi comunque per quanto riguarda la formazione quest'oggi miglior squadra possibile la stessa formazione che ha battuto il Venezia 5-1 cerchiamo di replicare pure oggi faccio ragazzi Herbie Vail a campo può andare Herbie Vail può mettere il turbo classica azione da parte dei nostri ragazzi Herbie Vail può andare dentro e arriva il gol qui sfortunatissimo autogol da parte del Colonia con Terra Averst se non ho visto male Terra Averst che se non se non sbaglio in passato giocava in Italia all'Udinese penso sia lui faccio qui bellissima la giocata di Rodrigo Ribeiro che fa correre ancora Herbie Vail occhio Herbie Vail stavolta stavolta la giocata è molto più semplice infatti viene pescato Nico Williams che trova subito il gol del 2-0 occhio ancora Herbie Vail riesce ancora a partire ancora col turbo Herbie Vail vediamo un po' come si muovono ovviamente si muovono benissimo ma soprattutto si muove ancora Nico Williams raga questo ha fatto 6 gol in 2 partite per il momento è termina anche il primo tempo ancora devastante la parte nostra e sicuramente raga già possiamo avere delle indicazioni perché con questa prima squadra in campo devo dire che siamo molto forti secondo me ci sono le possibilità di divertirsi quest'anno con questa formazione in campo però ovviamente ragazzi la difficoltà della stagione sarà integrare anche le seconde linee per così dire ovviamente ragazzi non possiamo giocare sempre con questa squadra con tutti gli impegni che ci sono sarà inevitabile fare turn over e appunto la difficoltà e la bravura nostra più che altro dovrà essere quella lì di riuscire ad ottenere il massimo anche dalla squadra che è scesa in campo prima contro Genoa ragazzi c'è Nico Williams in campo aperto ragazzi è partito questo sicuramente è gol è troppo forte guardate qua quanto cavolo corre l'appoggio dentro per Rodrigo Ribeiro che non può sbagliare ragazzi Nico Williams che cosa abbiamo acquistato che peccato ragazzi deve arrivare il gol a tempo potentemente scaduto 4-1 segna Franco in contropiede peccato ragazzi gol che sinceramente non ci stava né in cielo né in terra comunque finisce qua il nostro precampionato estivo 4-1 quest'oggi per noi come detto raga la prima squadra sembra essere veramente tanta roba ma adesso più che altro mi interessa scoprire se ho vinto o no il precampionato estivo la serenità l'ha perso quindi è fatta vediamo ragazzi premio torneo abbiamo ok si abbiamo vinto abbiamo vinto corpo internazionale estivo ok una soddisfazione in più e arriva anche un'offerta per grips da parte dell'anversa comunque ci tengo a certificare la nostra vittoria per un punto 7 punti ok alla fine due vittorie e un pareggio sono bastati fortunatamente quindi qualche sordino in più per noi ma adesso ragazzi andiamo a vedere questa offerta per grips che ovviamente sulla carta non vogliamo vendere ma in questi casi nessuno è incedibile soprattutto un giocatore come grips che a 25 anni ha la crescita bloccata è un 79 il giocatore è molto forte che penso che durante l'anno riuscirà a diventare un 80 però a parte tutto ha pur sempre la crescita bloccata quindi io vado a trattare ma vado a chiedere 35 milioni perché sicuramente almeno per questa stagione come ho sempre detto vorrei che restasse che fosse importante adesso iniziano ad arrivare come le offerte doppia prima Mikai Brenzi e poi Bailey Bailey tra l'altro molto importante da cedere perché ora come ora è un giocatore in più comunque 26 anni finiamo a 74 è stato un giocatore molto molto importante fa parte faceva parte comunque della squadra base del South for City comunque resterebbe in Inghilterra a Bournemouth quindi sicuramente ci potrebbe stare però vado sicuramente a trattare e a chiedere qualche milioncino in più non lo so tipo 7.5 potrebbe andare bene vediamo che ci risponde il Bournemouth 6.9 ok non male a suo punto 7.2 comunque 7.2 che vengono accettati va bene sono abbastanza soddisfatto e adesso ragazzi Mikai Brenzi che è un altro giocatore purtroppo bloccato anche se ha solamente 22 anni lo vogliono in Svizzera lo Young Boys anche per lui ragazzi vorrei che quest'anno tutto sommato restasse quindi vado a chiedere 30 milioni vediamo un po' che ci rispondono 22.2 non male ragazzi la tensione è salita abbastanza io provo a fare 29 milioni perché comunque ragazzi 27.3 e a suo punto ragazzi Mikai Brenzi come ha detto è un giocatore che è fermo con la crescita bloccata sicuramente è un grandissimo sostituto però appunto è un sostituto e visto che vale 25 milioni se me ne danno 28 non posso fare altro che accettare sinceramente perché poi se rialzavo a 29 era facile che rifiutassero quindi secondo me ragazzi ci sta che vado allo Young Boys è stato un giocatore molto importante soprattutto l'anno scorso però adesso è arrivato Arnao Martinez sicuramente avrà meno spazio allo stesso tempo voglio comunque che venga ricordato nel modo giusto quindi secondo me va bene così però adesso giustamente servirebbe un sostituto per Belì siamo a posto invece per quanto riguarda il terzino poi ce ne servirebbe uno nuovo che chi potrebbe essere c'è questo Bradley del Liverpool 77 molto interessante poi vediamo un po' chi c'è chi c'è lo vorrei sempre sul 75 giù di lì Gonzalo Estevez che purtroppo è in prestito quindi niente da fare questo Cameron però è un mancino io diciamo vorrei il terzino destro capito destro uh ragazzi qua c'è Rico Lewis dal Manchester City però andasse a prendere un sostituto dal Manchester City mi sembra sinceramente un po' troppo c'è questo Hernandez spagnolo che gioca negli Arts quindi nella squadra di Kingdom Hearts no vabbè comunque abbiamo Christian Lombardi 78 Regen dal cioè comunque nel Montpellier gioca ok vabbè devo dire che ci sono molti giocatori ovviamente ragazzi arrivati alla quinta stagione è inevitabile non dare un'occhiata anche ai Regen oppure ragazzi c'è questo Texair qui svincolato piede destro diciamo è un terzino sinistro però lo mettiamo a destra e siamo a posto c'è anche questo E in singlese ragazzi piede destro quanto è alto? 1,72 abbastanza rapido beh sembra essere un buon terzino eh ragazzi lui potrebbe essere ottimo poi anche questo Paceco ecco il piede destro lui è interessante perché comunque gioca in Spagna ma è inglese quindi ci potrebbe stare portarlo appunto in Inghilterra poi ci sono altri destri sicuramente vediamo 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 sì eccolo qui Bacher ma è solamente un 69 continuando abbiamo i CTC quindi vabbè direi che con i terzini abbiamo finito e ragazzi allora visto che se non prendiamo un Regen prendiamo quel giocatore del Liverpool Bradley del Liverpool però ragazzi prendersi un sostituto che prende tantissimo di stipendio e appunto utilizzarlo semplicemente come una riserva non mi sembra il massimo quindi penso che almeno con i sostituti dare un'occhiata ai Regen ci potrebbe stare c'è questo Wains che mi sembra molto interessante quindi perché non provare a prendere un giocatore così comunque vent'anni già un 76 alla fine ragazzi poi appunto è un sostituto cioè diciamo i sostituti soprattutto in difesa è facile che vengano diciamo modificati molto spesso quindi sicuramente non sarà il terzino definitivo oppure sì chi lo sa non lo sapremo mai però sicuramente si potrebbe prendere ragazzi perché appunto siamo arrivati alla quinta stagione sì alla quinta stagione e appunto non si può non considerare anche i Regen comunque ragazzi io direi che per oggi possiamo fermarci qua arriva una nuova offerta per Roberto da parte della Juve e io vi lascio così con questa offerta per Roberto bene ragazzi sicuramente con la Juve si potrà trattare speriamo nel modo corretto nel senso che si riesca a trovare un'intesa speriamo sui 60 milioni e in più ragazzi mi sa che ci stiamo avvicinando all'esordio in Premier League io spero che in questi giorni riesca a fare tanto tanto calciomercato così da affermarsi nella prossima puntata proprio alla partita contro il Manchester City per poi vederla nella prossima puntata ancora comunque ragazzi io per l'appunto per oggi mi fermo qua ci siamo salutati con un precampionato vinto che è sempre una cosa importante quindi io non posso far altro che salutarvi qua come al solito vi invito a lasciare un mi piace a iscrivervi al canale a seguirmi sulla pagina Instagram a sostenere il canale tramite una donazione e noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.